buongiorno a tutti sempre il vostro andrea stiamo provando a fare un video per vedere se si sente opera opera ecco già abbiamo i primi riscontri vocali opera siamo sempre nella scaletta interna della fontana che una volta veniva usata per la manutenzione appunto di questa fontana più si scende e più sale l'attività però al momento si è inteso solo no 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 quindi più di qui è meglio che non andiamo perché questo no secco non è che ci rassicura ok ritorniamo indietro e proviamo con l'all scan grazie